Giovedì 9 maggio 2013 l'Auditorium Testori del Palazzo Lombardia a Milano ha ospitato ancora una volta i workshop di infoprogetto firmati Action Group con il patrocinio dell'Adi Lombardia. Una giornata dedicata a facciate, infissi, porte e riqualificazione. Partner dell'iniziativa anche Gatti Precorvi. Gatti Precorvi è un'azienda nata 72 anni fa da una famiglia di Bergamo, sono 5 fratelli. La società da sempre è specializzata in foratura, in foratura coil to coil o in forature particolari. Da 5 anni a questa parte, con il mio ingresso, Gatti Precorvi ha diversificato mettendo a frutto le sinergie interne, le esperienze e quindi tutta la parte tecnica esistente, proiettandosi su mercati. E qui ce n'è un esempio proprio parlante di fronte a voi. Abbiamo inventato dei sistemi per una riduzione climatica, frangisole, il frangisole intelligente. Qui ci sono 38 mila pale in regione Lombardia e grazie a questo progetto brevettato da Gatti Precorvi siamo decollati e da qui abbiamo fatto veramente altri grossi lavori che oggi presenteremo a questo workshop. Grazie a tutti!